Ciao a tutti amici, Oliverio Giardini in persona. Visto che ci sono le vacanze di mezzo, insomma, volevamo salutare anche tutti gli amici di Facebook e i nuovi amici, i clienti e tutti quanti. Ripartiamo poi il 18-19 di agosto. Carichi, volenterosi di fare bene, visto che poi con questo virus si è fermato tutto. Allora, per chi non lo sa, Oliverio Giardini segue potature, ridimensionamento di piante, abbattimenti controllati, progettazione e realizzazione dei giardini, semine, trisemine, fornitura di adobbi floreali. Si lavora con umiltà e onestà. Quindi per tutti coloro che hanno bisogno di un progettista, di un'impresa che gli segue i lavori a regola d'arte, precisi, veloci, senza rubare delle ore, noi ci siamo. Siamo forti poi anche nel discorso della manutenzione del verde, gestione del verde, lavoriamo con svariate attrezzature diverse, scavatori, cestelli, autocarrati, cingolati. Quindi riusciamo a fare lavori molto veloci, con un prezzo abbastanza onesto. Non ci interessa come lavorano gli altri, non ci interessano i preventivi degli altri, sappiamo come lavoriamo noi. Quindi vi aspetto numerosi poi nel mese di settembre per qualsiasi vostra richiesta. Quindi sapete che le richieste sono gratuite, le consulenze sono gratuiti, i preventivi sono gratuiti. Quindi meglio di così non si può. Un abbraccio e un saluto a tutti voi. Ciao!